Sono il dottor Marco Scardellato, veniamo da Treviso, siamo fratello e sorella e abbiamo preso in gestione il nostro studio da ormai sette anni senza il nostro papà che è venuto a mancare. Ci siamo trovati molte difficoltà in questo periodo qui perché comunque la mole di lavoro è cresciuta tantissimo e ci troviamo in due a dover gestire praticamente tutta la complessità di gestire lo studio, la visita, il paziente, l'agenda, la parte burocratica, la parte amministrativa. Probabilmente siamo arrivati a un punto di saturazione dove da soli non riusciamo più a star dietro a tutto in modo ottimale e siamo incappati più volte a dire la verità in Dentalit, nella figura di Max comunque, ed è arrivato il momento di chiamare, siamo arrivati qui nel giro di una settimana è successo tutto. Sì, praticamente. E finora siamo contentissimi e ci sentiamo in buone mani e sappiamo che è quello che ci serve adesso per qualcuno che ci dica concentrati su questo, adesso muoviti così. Diciamo che a noi è mancata la figura che ci rendesse proprio più fluido tutta l'impostazione del gestire lo studio e già dai questi primi tre giorni ci ha dato tante dritte diciamo sul come deve essere proprio impostata tutta l'attività che non è solo purtroppo clinica ma c'è tutta una parte organizzativa dietro che è molto complessa e c'è proprio bisogno di un qualcuno che ti sappia pilotare e guidare in questo. Quindi siamo per adesso veramente soddisfatti. E consiglieremo sicuramente questo percorso a altri colleghi. Sì, sicuramente. Sì, sicuramente. Sì, sicuramente.